Amici di tutto Venezia Sport e dei fuoricampo, buongiorno e ben ritrovati con questo nuovo video. Qui è stato parlato come sempre il vostro Davide Marchiol per fare appunto le situazioni in casa Venezia alla luce dell'1-1 arrivato al Penzo contro il Pisa. Ovviamente prima di iscrivervi al canale l'invito è sempre quello, iscrivetevi perché se volete che resti questo canale per parlare di squadre più piccole come il Venezia o altre realtà servono i numeri e quindi è fondamentale per dare anche un senso allo sforzo che facciamo a portarvi questi contenuti ogni post partita e poi via via nel corso della settimana che alla fine diventa anche uno spazio per voi per esprimervi sotto nella sezione dei commenti che vi ricordo anche per questo video è aperta, basta mantenere il filo della logica e il minimo di educazione necessario per poter comunicare con gli altri. Ovviamente se siete già iscritti vi rinnovo come sempre il ricordo, la rimembranza, dovete cliccare sul tasto del like perché altrimenti il video non gira, purtroppo è una roba fondamentale ricordarselo ogni video, è una roba da mezzo secondo no, proprio perché è mezzo secondo spesso chi guarda magari se lo dimentica, ergo ricordatevelo perché è una chiave importantissima. Allora, passando alla partita partiamo dalle scelte iniziali di Javorcic che sono sostanzialmente in realtà quasi abbastanza obbligate l'unico dubbio era sparsi a partire a tre in difesa da subito a gara in corso però diciamo che già nella gara contro la SPAL, Modulo aveva fatto abbastanza capire di essere l'unico difensore capace di tenere alto il livello di concentrazione nel reparto e quindi era fondamentale inserirlo in qualche modo calcoliamo poi anche le tante assenze in mezzo al campo con Cernigo e Quizans, KO, Tesman squalificato e capiamo che il 3-5-2 alla fine è una scelta che era abbastanza inevitabile con Menpah in porta per un acciacco fisico capitato a Joronen, con Modulo, Ceccaroni e Wisniewski a proteggerlo Busio, Kofod e Fiordelino in centrali, i due quinti erano Candela e Ulman davanti copiata a Copoglian Paolo Novakovic con diciamo il Modulo ha fatto capire fin da subito per dire che già Novakovic è un po' più adeguato nel momento in cui è un compagno di reparto giusto per dare una primissima indicazione che viene fuori da questo match è chiaro che hai ottenuto un 1-1 in casa con 20 minuti di superiore età numerica contro un Pisa ancora forse più in difficoltà di te quindi è chiaro che molti tifosi non saranno ovviamente soddisfatti ed è una cosa assolutamente comprensibile perché quello che aiutava veramente in classifica erano i tre punti e quando Ionita viene espulso ci abbiamo probabilmente sperato un po' tutti quindi diciamo che dal lato mio per esperienza fare gli ultimi minuti in superiore età numerica con un avversario che può contentarsi del pareggio spesso più che metterti la gara in discesa te la mette in salita anche perché Maran subito ha messo praticamente i suoi tutti in area di rigore e lì diventa sostanzialmente un tiro al bersaglio dove ti serve fortuna anche perché i tuoi tiratori da fuori sono fuori scusate il gioco di parole perché Cuisance e Cernigoi che hanno il piede più adatto per tentare delle conclusioni da lunga distanza non c'erano così anche come Conno li ha dimostrato di avere una buona botta e non c'era quindi purtroppo in quei 20 minuti sì chiaro l'uomo in più automaticamente ti suggerisce una messa in discesa della gara però non sempre così e secondo me questo non era proprio il caso in cui ti facilitava il compito ma anzi te l'ha reso ancora più complicato anche perché nel momento in cui il Pisa difende con 8 uomini nella sua area e giusto 2 fuori sì puoi mettere i cross, puoi tentare i tiri devi veramente azzeccare la traiettoria perfetta però per combinare qualcosa la vera pecca è non averla secondo me più che altro sbloccata ben prima perché il Venezia stavolta il gioco l'ha fatto ha mostrato una certa crescita nelle trame e anche come dicevo prima nel feeling tra i giocatori ci sono ancora alcune cose che non mi sono ben chiare per dire il fatto che sia poi Jampalo ad abbassarsi fino alla linea dei centrocampisti con Novakovic che resta alto francamente mi aspetterei per caratteristiche un po' più il contrario perché così Pojan comunque spende tantissime energie per fare questo lavoro di raccordo su e giù e chiaramente ti diventa anche meno lucido in area di rigore comunque una gara dove a livello difensivo hai tenuto la sblocchi con poi Jampalo che pesca Novakovic che fa un grandissimo gol che non può riscattare quelli sbagliati con la spalla perché alla fine là arriva una sconfitta ma quantomeno fa capire che è un ragazzo che comunque qualche mezzo ce l'ha non è stato pescato a caso tira fuori questo grand gol va in vantaggio e ancora una volta viene fuori sempre lo stesso problema di aspetto psicologico stavolta purtroppo l'errore è quasi tutto di un solo giocatore ovvero purtroppo di Ceccaroni che si fa battere troppo facilmente nell'uno contro uno da Gliozzi che è anche in svantaggio a livello di come dire cioè è Ceccaroni un po' più avanzato è nella posizione migliore per contenerlo invece si fa veramente battere con eccessiva facilità Modolo parte fin da subito per provare ad aiutare il compagno quasi sapendo cosa stava per succedere Gliozzi batte Ceccaroni arriva in area calce batte Menpa lì è probabilmente la vera chiave del match la vera cosa che non doveva succedere quel concedere quel gol lì perché alla fine Menpa sostanzialmente non deve mai intervenire è un Pisa che si è difeso bene perché ti ha concesso poco occasioni pulite con palle in movimento e tante in palle inattiva ma era un Pisa che faceva fatica invece moltantissimo a pungerti infatti chiude la gara con solo due tiri in porta il primo tempo finisce sull'1-1 nella ripresa la squadra aumenta ancora di più i giri del motore perché sì nel primo tempo forse qualcosa viene meglio del Pisa ma comunque era una gara da parità nel secondo tempo è giustificato invece una situazione di vantaggio costruendo di più avendo più occasioni come dicevo prima non su palle in movimento ma su palle inattiva la tua pecca è che non ne hai anche stavolta concretizzata nessuna perché ci va prima vicino Ceccaroni e lì è bravo Nicola se dirgli no ci va prima vicinissimo ci va poi vicino il modulo e la mette fuori e non dentro ci va molto vicino Wisniewski e fa la barba al palo in quelle situazioni da piazzato la devi sbloccare e lì la gara va effettivamente sui tuoi binari perché in quel momento il Pisa se va in svantaggio non ha più niente da perdere deve per forza sbilanciarsi facciamo finta anche che sia con un uomo in meno deve sbilanciarsi con 10 giocatori e non 11 e quindi chiaramente ti lascia degli spazi che poi con gli inserimenti di Cerisever Johnson potevi utilizzare per chiudere la gara nel momento in cui vai in inferiorità numerica e sei solo 1 a 1 il Pisa può tranquillamente accontentarsi se sei nella sferta del pareggio diga in area tutti in area tutti sotto la linea del pallone tra nel centro avanti e lì ragazzi diventa veramente un grosso problema sbloccarla purtroppo perché sì puoi mettere i cross in mezzo ma nel momento in cui metti i cross in mezzo i vari Poglianparo e Novakovic hanno due due marcatori a testa diventa complicato puoi provarci come ho detto prima con tiri dal limite era fuori area non credo che però possiamo incolpare Aps perché non gli riesce il tiro al volo che non è una cosa sua non è una sua caratteristica purtroppo questo è dovevi sbloccarla prima dovevi portarla prima sui tuoi binari perché le occasioni le hai avute e non le hai sfruttate quindi siamo sempre lì ci sono dei passi avanti ma sono ancora troppo timidi per dire che la rotta è invertita ed è un peccato perché l'occasione c'è stata l'occasione c'è stata perché hai avuto 4 palle gol nitide forse anche di più ma diciamo ne dico 4 e invece l'unica volta che l'hai buttata dentro è con la gran giocata di Novakovic e poi nient'altro purtroppo va così purtroppo va così dobbiamo prenderne sostanzialmente atto non credo che ci sia da disperarsi perché ribadisco è stata un'altra gara dove come con la SPAL a livello di costruzione di gioco hai mostrato dei passi avanti modolo hai capito che è imprescindibile per dare solidità a un reparto che senza sbanda in un amen e niente adesso devi lavorare queste due settimane in cui c'è la pausa al massimo per portare ancora qualcun altro a regime a livello di forma fisica e niente poi dovrai iniziare a macinare a qualche punto ovviamente quello è fondamentale e poi ripeto dei passi avanti oggettivamente ci sono stati perché già nella ripresa con la SPAL avevi costruito delle occasioni e anche qua contro il Pisa invece è molto più in difficoltà della SPAL comunque nella gara avevi giustificato una vittoria è chiaro che è un momento in cui i tiri non ti entrano e nelle occasioni principali quelle sui piazzati dove i difensori soprattutto di testa hanno avuto delle occasioni colossali non le hai buttate dentro e quindi da quel punto di vista puoi fare solo mea culpa con questo è tutto sicuramente vi farò non vi farò mancare dei video anche durante la pausa ovviamente spazio aperto nei commenti ricordatevi iscrizione e like che sono una cosa fondamentale un saluto alla prossima ciao ciao